Il tampone prelevato post-morte ma l'anziana signora di Villa Mercede deceduta al Rizzoli lunedì scorso è risultato positivo al Covid-19. Ciò significa che con molta probabilità è questa l'origine dei contagi della RSA di Villa Mercede a Serrara Fontana. L'anziana era stata ricoverata presso l'ospedale La Schiana di Pozzuoli nelle scorse settimane per accertamenti. Aveva fatto ritorno a Villa Mercede lunedì 6 aprile. In via precauzionale le era stato effettuato un test rapido sia quando aveva lasciato la struttura di Serrara Fontana che quando vi ha fatto ritorno. Evidentemente era trascorso troppo poco tempo dal contagio e comunque è noto che non c'è un'affidabilità al 100% del test sui casi negativi. Fatto sta che la signora lo scorso weekend ha accusato problemi respiratori, è stata nuovamente trasferita al Rizzoli ed è poi deceduta come detto lunedì scorso. Non ci può essere una certezza al 100% ma è molto probabile che l'anziana abbia potuto contrarre il virus proprio presso l'ospedale di Pozzuoli dove continuano ad aumentare i casi positivi tra pazienti, medici e infermieri. Assurdo. Un'anziana è entrata in ospedale per delle patologie e dei controlli ed è uscita con il Covid-19 contagiando poi a sua volta altri anziani nella RSA di Villa Mercede. Per ora sono in sei ma si attendono altri tamponi. Ma soprattutto se il Covid-19 abbia inciso o meno sul decesso non lo si potrà stabilire facilmente ma questa è una realtà sconosciuta comune a tanti anziani deceduti in questo periodo. Ci troviamo davanti all'ennesimo contagio e forse anche vittima di Covid-19 a causa della gestione scellerata dell'ospedale Laschiana che fa capo ovviamente all'Asdl Napoli 2 Nord diretta ad Antonio D'Amore, la stessa Asdl e gli stessi vertici incapaci a detta del Cotugno persino di inviare correttamente i tamponi. Toccherà alla politica far pesare eventuali irresponsabilità. Ora però c'è da gestire una nuova emergenza, un nuovo focolaio. Attraverso un comunicato ufficiale nel pomeriggio l'Asdl ha spiegato come sta fronteggiando il pericolo di nuovi contagi. Tutti i pazienti sono stati visitati, si legge nel comunicato. I pazienti Covid positivi saranno trattati presso la struttura. Il lavoro dell'equip del Rizzoli che si è recata ieri a Villa Mercede è continuato nella giornata di oggi. Nella mattinata sono stati visitati tutti gli ospiti, definiti percorsi dedicati ai pazienti Covid positivi e formato il personale della RSA sulla corretta gestione dei pazienti. I sei pazienti risultati positivi Covid-19 a seguito dello screening effettuato dall'Asdl sono stati collegati in un'ala separata della struttura. visitati ed è stata prescritta loro la terapia da seguire. Al momento le loro condizioni appaiono soddisfacenti ma i sanitari hanno previsto controlli continui da attuarsi sia mediante il personale della struttura che attraverso un'equip del Rizzoli che periodicamente si recherà sul posto. Il loro stato di salute infatti al momento non richiede un ricovero ospedaliero ed è compatibile con il trattamento a domicilio previsto. Controlli serrati saranno assicurati anche agli altri ospiti della struttura che verranno nuovamente sottoposti a tampone tra un paio di giorni. Tale procedura sarà adottata per garantire una maggiore accuratezza epidemiologica al fine di tutelarne lo stato di salute e garantire il massimo della sicurezza. Il monitoraggio sarà esteso anche al personale della RSA che sarà controllato in modo attento dall'equip sanitaria mediante visite periodiche e controlli con test rapidi e tamponi. Questo è ciò che ha comunicato l'ASL e speriamo che proprio l'ASL riesca a fare meglio di quanto purtroppo non ha saputo fare fino ad oggi.